Sono continuate tutta la notte le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco di tutta la Toscana dovuti ai danni provocati dal maltempo. Arezzo con altri 180 interventi e tra le città più colpite insieme a Siena, Livorno e Grosseto. Oltre alle squadre dei comandi della Toscana sono arrivate anche dalle Marche e dalle Miglia Romagna. Nel territorio arettino gli episodi più importanti sono stati indubbiamente al supermercato Todis, ma anche, come vediamo in queste immagini, nella zona di indicatore dove si trova il cantiere per la realizzazione del mosaico. A raccontare con questo video i danni subiti è Andreina Giorgia Carpenito, ideatrice del progetto. Al lavoro anche il 118 arettino, numerosi interventi per persone ferite come un uomo colpito da una lamiera che si era staccata dal tetto, mentre una casa di riposo in Casentino era rimasta senza energia elettrica. I sanitari hanno soccorso i pazienti a domicilio che utilizzano macchinari e strumenti medicali e che in caso di mancata corrente non possono essere utilizzati. L'eremo di Camaldole è stato a lungo isolato per problemi alla viabilità che ora è stata ripristinata. In salvo anche i 40 scout che si trovavano lì per un corso ed erano rimasti isolati. Ancora manca la corrente elettrica nella zona di Castel San Nicolò in Alto Casentino. Ancora manca la corrente del progetto.